Il giovane Giuseppe Larana, 26 anni, consulente sul Fondo Europeo per la Regione Abruzzo, esperto in europrogettazione e attuale coordinatore cittadino del partito di Gianfranco Fini, è nella lista dei candidati per la Camera. Il partito, ha dichiarato Giuseppe Larana, mi ha chiesto la disponibilità a rappresentare il territorio per la Camera dei Deputati. È positivo che il nostro territorio abbia una rappresentanza ed una figura che al tempo stesso rappresenti un volto nuovo. In queste ore, ha aggiunto Daniele Toto, vice coordinatore nazionale di FLI, stiamo predisponendo le liste. I candidati alla Camera sono tutti giovanissimi e in ogni caso saranno rappresentativi per ogni provincia. La lista alla Camera in tutte le regioni sarà trainata da Gianfranco Fini, mentre il capolista effettivo in Abruzzo sarà Daniele Toto.